buongiorno a tutti carissimi amici del 10 e l'8 questo video è per voi allora mi spiace non essere stata presente sul canale come ho già detto in altri video se avete seguito sto facendo dei lavori in casa ho visto che alcuni di voi hanno chiesto che ci fosse anche un angolino per voi quando partiranno le nuove trasmissioni di caffè e latte con perla per cui riserverò sicuramente un angolino per voi dove vi darò una schedina da giocare siccome come vi dicevo sto ancora facendo questo lavoro in casa non sono ancora pronta per far partire la rubrica di caffè e latte con perla quindi nel frattempo faccio dei video solo per voi come gli altri che trovate sul mio canale voi sapete che potete andare a controllare i video che ho già fatto per quanto riguarda i consigli credo di aver bene dati già tanti quindi in questi video ma anche dopo nel video che farò quello lì di caffè e latte con perla dove ci sarà un angolino per voi amici del 10 e l'8 pochi ma buoni vi darò una schedina vi darò la schedina che gioco io ok allora ultimamente io ho fatto per lo più faccio 3 faccio 4 sempre la schedina da 6 che io gioco sempre quella da 6 e però come sempre non sono ancora riuscita a fare il 6 ok non ce l'ho ancora fatta per cui adesso per il momento ancora non ce l'ho fatta però sono vicina e sono vicina per cui se voi volete approfittare della schedina che vi do e giocarvela potete farlo io adesso ve la scrivo una cosa la schedina che io vi do almeno che non escono tutti i numeri almeno 4 numeri di quella schedina non cambiatela giocatela almeno per 3 volte perché se non esce il giorno che voi la giocate può uscire l'indomani o l'indomani ancora voi sapete che adesso hanno fatto delle hanno aggiunto una nuova estrazione del venerdì per il 10 e l'8 parlando sempre del 10 e l'8 serale io gioco solo il 10 e l'8 serale occhio quindi che viene giocato il martedì il giovedì il venerdì e il sabato quindi sarebbero 4 volte a settimana quindi adesso ci sono rimaste per questa settimana altre 3 estrazioni vi do la schedina da giocare in queste 3 estrazioni che è quella che gioco anch'io poi vabbè io magari potrei anche cambiare qualche numero ma non è detto non è detto dipende sempre dalle uscite però la schedina che vi do è buona quindi voi giocatela se vi va ok se vi va oppure potete anche scegliere qualcuno dei miei numeri e metterne dei vostri come volete insomma in base al vostro estro io però ve la do da giocare quindi domani scusate stasera domani e dopodomani ok oggi è giovedì poi domenica farò un altro piccolo video e ve ne darò un'altra da giocare durante la settimana sapete che io non posso garantire nulla io vi posso dire i risultati che faccio io che spesso faccio punto diciamo quelli per rigiocare li prendo per cui gioco sempre con quelli almeno per cui non pago di tasca ultimamente non sono riuscita a fare il 6 cioè non sono ancora riuscita a fare il 6 però ci arriverò poi un'altra cosa potete anche scegliere 3 e fare la giocata da 3 numeri con 1 euro vincete 45 euro ovviamente se aumentate la vostra vincete di più quindi potete anche scegliere 3 di quelli che faccio io adesso della schedina che vi do adesso non per forza dovete giocare la schedina da 6 ok io sto parlando fuori campo vabbè mi sentite ok allora adesso vi do la schedina poi metto il minuto dove vi do la schedina così se non volete sentire quello che vi ho detto ascoltate adesso allora i numeri sono questi dopo ve li io li dico a voce poi ve li giro allora la schedina è da 6 10 e l'8 mi raccomando 10 e l'8 da 6 potete metterci 1 euro e con 1 euro si vincono 1000 euro allora vi do la schedina allora 5 questa è quella che ho giocato io per stasera e che giocherò tutta questa settimana fino a sabato 5 73 71 90 13 e 57 e 57 questa è la schedina che gioco io che ho giocato io per stasera ovviamente non garantisco nulla perché non posso non posso sapere però una mi piace come schedina e ve la do allora 5 73 71 90 13 57 ok questa è la mia schedina per stasera voi potete prendere alcuni numeri e farne una da 3 oppure ne fate una da 6 e una da 3 se voleste farne una da 3 vi prendete il 5 il 71 e il 73 e giocate questi 3 ok mi raccomando oggi domani e dopo domani poi basta ovviamente se vi escono benissimo ovviamente se già ve ne escono 4 dovete cambiarla ma comunque io poi domenica sera faccio un altro video ok vi darò un'altra schedina quindi credo di avervi detto tutto ok noi ci sentiremo amici del 10 e l'8 ci sentiremo poi domenica e ricordo a tutti che quando ci saranno le nuove puntate di Caffè Latte con Perla ci sarà un angolino per voi dove vi darò dei consigli e vi darò una schedina che durerà una settimana cioè dovete giocarla per quella settimana già fatta perché mi rendo conto che voi magari non avete tanto tempo è più facile avere la schedina già pronta ok e quindi mi raccomando però di come possiamo dire di giocare poco perché è un gioco questo è un gioco un divertimento non deve essere una cosa ossessiva cioè noi giochiamo insieme ci divertiamo insieme ok mi raccomando questo è importantissimo benissimo credo di aver detto tutto se vi è piaciuto insomma il video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale che ha bisogno di essere sostenuto mi raccomando amici del 10 e l'8 ho pochi ma buoni so che siete pochi ma siete grandissimi e vi ringrazio a tutti vi abbraccio uno per uno anche se siete pochi che mi seguite e grazie per la fiducia e niente ci risentiamo domenica e vediamo come andrà con questa schedina ci parliamo vi racconto un po' ci raccontiamo benissimo alla prossima ciao